A voi tutti ben ritrovati dal vostro Giuseppe De Vitis. Guardate, in questo avvio di settimana le temperature torneranno gradualmente ad aumentare, in particolar modo proprio sulle regioni centro-settentrionali, o meglio a partire dalle regioni centro-settentrionali. Avremo quindi tempo tranquillo, tempo bello, prevalentemente sereno, magari qualche nuvola si potrà vedere nel corso della giornata, ma comunque questo avvio di settimana sarà a tutti gli effetti, come potete osservare dalla nostra grafica, estivo, con temperature che tenderanno, come detto, ad aumentare, soprattutto nei valori massimi. Per il momento è tutto, cari amici, buon inizio di settimana, buon lunedì!